Non era solo passare la nottata, ma prendersi cura anche dell'alimentazione e della nutrizione di chi mangiava il pane. Perciò per me era una cosa importante. Ho cominciato a studiare, a iscrivermi a dei corsi, a conoscere persone. Ho sempre girato, dopo il lavoro andavo sempre a conoscere con la gente, con delle persone che comunque ne sapevano più di me e cercare di vederne il più possibile. Ho studiato, ho letto, ho cercato di approfondire ogni lezione. Poi ho avuto la fortuna, a un certo punto nel 2007, di entrare in un mulino dove ho avuto la possibilità di entrare nel mondo della ricerca. Perciò fare analisi di laboratorio, fare ricerca sulle varietà di grano. Entro nel mulino a 360 gradi per scegliere naturalmente le varietà giuste da macinare, come miscelarle e come rendere il prodotto più perfetto possibile. Rispettando sempre la materia prima. Qui ho imparato veramente tante cose, sono entrato veramente nel processo di filiera completo e l'ho compreso fino in fondo. Tutte queste conoscenze le ho volute sviluppare in un corso in maniera professionale. Professionale non significa che è solo per pochi, ma solo con chi naturalmente vuole andare a fondo delle cose. Fare un buon pane. Sono Giuliano Pediconi, vi aspetto in Club Academy nella mia Accademia del pane. Selezionare, affettare, tritare, legare, ma anche cuocere a bassa temperatura o seguire i dettami della cucina più tradizionale. Sono Fabio Campoli e vi presento la mia prima Accademia della carne. Materia prima, conoscenza, esperienza, sperimentazione. Sono questi gli ingredienti giusti per approcciare in modo nuovo al mondo della carne. Faremo assieme 40 lezioni, 4 corsi, scenderemo nel dettaglio, dalla conoscenza della materia prima, all'anatomia, ai sistemi di trasmissione del calore, ai metodi di cottura, alle preparazioni della macelleria, per poi analizzare una ad una le cotture possibili nel mondo della carne. Sono Fabio Campoli e vi aspetto su Club Academy. Da una tradizione contadina è nata la pasta fatta in casa. È nella mia Accademia della pasta che vorrei insegnarvi l'arte della pasta fatta in casa. In un corso per apprendere le basi capisaldi di un prodotto che rappresenta l'italianità, la pasta. Inizierò il corso proprio dalle basi della pasta fresca fatta in casa. Le farine più adatte ai vari formati, gli impasti solo con farina e acqua e gli impasti all'uovo, per arrivare agli impasti colorati. Vi mostrerò come utilizzare il mattarello per stendere e tagliare una sfoglia a mestiere. E' solo dopo aver imparato le basi della sfoglia che vi insegnerò la pasta fresca e la pasta di piena, nei formati che rendono esclusiva la cucina italiana. Sono Cristina Lunardini e vi porto con me in Club Academy. Complicare le cose è semplice, ma semplificarle è molto più complicato. Ecco perché la mia pasticceria si chiama Intelligente. La mia filosofia di pasticceria è quella di stravolgere tutto, imparare le regole per poi dimenticarle. Solo in questo modo riuscirete a uscire fuori dagli schemi mentali ed essere padroni della ricetta e non più schiavi e diventate compositori. Sono Leonardo Di Carlo, nato in Puglia e cresciuto a Roma, dove ho gestito la pasticceria di famiglia. Poi trasferito in Veneto e dopo 25 anni in giro per il mondo, per corsi e consulenze, ho aperto la mia scuola in Pastriconze. Sono definito il pioniere della pasticceria scientifica e il mio manuale Tradizioni in evoluzione è considerato da tutti la Bibbia della pasticceria. Vi invito a entrare nel mio magico mondo. Sono Leonardo Di Carlo e sarò il vostro docente di pasticceria. Vi aspetto su Club Academy. La mia professione nasce probabilmente all'inizio un po' per necessità. Poi è diventata una curiosità, poi è diventata un'esperienza anche personale e poi è diventata invece una professione vera e propria. Quando ho iniziato si lavoravano materie prime incredibili e molto valide per quei tempi. Poi siamo caduti, diciamo così, nel consumismo più totale e finalmente negli anni 90 siamo ripartiti. Sono Gino Fabri e sarò il vostro insegnante di pasticceria. Io sono Valeria Fabri e insieme a mio padre sarò la vostra insegnante di pasticceria. Sono nato a Castenaso dove ho iniziato nella pasticceria del paese questa attività. Poi insieme a mia moglie nel 1982 ci siamo trasferiti nell'attuale sede che è a Bologna. E da qui è iniziata l'altra storia perché da qui in poi è stato tutto un susseguirsi di eventi e la nostra famiglia è cresciuta. Io sono nata a Bologna, ho proseguito l'attività della famiglia che mi ha trasmesso comunque la passione mamma, papà perché fin da piccole siamo state involte nella pasticceria e quindi piano piano abbiamo sempre preso un po' più di piede e responsabilità e adesso siamo a tutti gli effetti qui dentro. Sono Gino Fabri e con mia figlia Valeria vi portiamo con noi in Club Academy. La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Sono Gianluca Resu e sono un maestro cioccolatiere. Sono nato a Torino ma il cuore è sardo. Lui è mio padre e all'età di due anni mi ha riportato in quella che poi è ancora la mia terra, la Sardegna. Ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cioccolato passando il tempo nella pasticceria di mio padre e già dall'adolescenza mi rendevo conto che avrei continuato questo percorso. Ho iniziato a studiare nelle migliori scuole a livello nazionale e a seguire quelli che erano i miei punti di riferimento a livello mondiale come maestri cioccolatieri. Attualmente insegno in diverse scuole a livello mondiale e amo trasferire ciò che ho imparato negli anni. Mi piace vedere la sensazione e lo stupore negli occhi dei miei allievi quando vado a trasmettere quelle che sono le tecniche e creare le parti artistiche del cioccolato. Nell'Accademia del Cioccolato troverete tanti corsi, dalle basi alle preparazioni più creative. Il cioccolato per me è una materia viva e bisogna trattarlo con cura e attenzione. È molta, molta tecnica. E se lo trattate con amore e passione potete avere dei grandi risultati. Ed è proprio questo che vorrei fare con voi. Trasmettervi non solo le tecniche ma anche un punto di vista diverso del cioccolato. Quindi la parte creativa. E io sono pronto. E voi? Vi aspetto con le mie lezioni sul cioccolato per iniziare insieme. Solo su Club Academy. Il pesto, colorato, vivace e anche un po' irrequieto. Proprio come me. Sono Mattia Poggi e sono uno chef. Mi sono formato alla scuola di Gualtiero Marchesi. E negli anni ho perfezionato le mie tecniche lavorando nei migliori ristoranti di tutta l'Italia. Ho scelto di presentarvi un corso in dieci lezioni dedicato interamente al pesto. Dal nord al sud Italia. Segreti, tradizioni, storia e cultura di questa antichissima preparazione. Ma anche innovazione e tanti abbinamenti declinati in dieci ricette. Ovviamente in esclusiva per voi su Club Academy. Vi aspetto. Amiche e amici carissimi. Buon anno da Club Academy, da me e da tutti noi. Buon anno. Davvero. Bentornati. Io vi ho lasciati nel 2021 con grandissimi propositi. Buoni propositi per il 2022. Speriamo che ovviamente sia andato tutto bene durante le vacanze di Natale e non solo. Il vostro Befano è arrivato stasera. Cioè sarei io pronto per portarvi intanto qualche sorpresa. Ovviamente le nostre tre ricette. Ma anche qualche sorpresa per quanto riguarda il mondo di Club Academy. Il più grande portale, il più grande sito di cucina, di corsi di cucina online. Cucina, pasticceria, panificazione e non solo. Tra l'altro per tutti coloro che vogliono affacciarsi a questo mondo sia dagli albori, dagli inizi che ovviamente nel mondo professionale. Allora tra l'altro con gennaio, ve lo dico fra poco perché voglio che si colleghino in tanti adesso. Siamo proprio agli inizi quindi magari non ci siete tutti, non siete tutti pronti. Se ci sono i nostri amici dall'estero, si facciano sentire ormai una consuetudine perché dalla Germania, da Londra, dall'Australia. C'è sempre qualcuno che scrive quindi anche a loro buon anno. E oggi prepareremo tre ricette, come sempre, ovviamente, della nostra rivista. Ok? Facile, con gusto, mese di gennaio. E lo vedete, la prima voce non poteva mancare. Antipasti light, è vero. Però poi ci sono anche tante altre cose. Ci sono la fantasia di cannelloni, gli arrosti di maiale, i secondi di pesce, i finocchi fritti al forno, i plum cake salati, dolci, torte rustiche, torte di mele. Quindi, veramente, tante cose. In questo numero di gennaio 2022 di Facile con Gusto, la nostra rivista, troverete anche le ricette che prepareremo oggi in trasmissione, cioè in diretta. La prima è, siccome abbiamo parlato di fantasia di cannelloni, è proprio un bel cannellone buono con i carciofi, ok? Quindi, cannelloni ai carciofi. Siamo nel periodo veramente pieno dei nostri carciofi, che io ho già pulito. Attenzione, attenzione, vi faccio anche vedere come. In Liguria, rispetto a Roma, per sbianchirli, per renderli più bianchi, si mette anche una manciatina di farina. Però, l'importante è che i carciofi vengano mantenuti immersi in acqua fredda, tanto limone spremuto all'interno e poi con il limone messo direttamente nell'acqua. Un altro escamotage che usavano le nonne, perché è sempre collegato alla vitamina C, è il prezzemolo. I gambi del prezzemolo all'interno dell'acqua fredda aiutano a ritardare l'ossidazione dei nostri carciofi. Perché i carciofi anneriscono? Perché ossidano. Quindi, in contatto con l'ossigeno, ossidano, cioè le fibre con all'interno il liquido di vegetazione cambiano colore, tendono ad annerire. Bene, per evitare ciò bisogna aggiungere appunto della vitamina C. Si può usare l'acido citrico, oppure laddove ci sia l'acido citrico, come nel limone, utilizzare proprio i limoni stessi. Bene, i carciofi costano molto, ok? Sono un prodotto che costa parecchio. Quindi, bisogna usarli veramente con parsimonia. Ma soprattutto, e c'è il nostro grande Andrea qui che è arrivato, eccolo qua, vi mancava, eh? Anche Andre, grande Andre, batti cinque. E anche lui, poi ci facciamo raccontare che cosa ha fatto a Capodanno e durante le feste di Natale avrà fatto faville proprio. Allora, i carciofi, dicevo, sono un prodotto che va usato davvero con molta attenzione. Perché è un prodotto caro. Quindi, bisogna cercare di usarne il più possibile. Quando dico il più possibile, intendo anche che è assolutamente necessario usare anche il gambo del carciofo. È molto importante. Primo, perché è buonissimo. Secondo, perché proprio aumenta il volume del carciofo. Quindi non andiamo a perdere anche una parte, diciamo, di soldi. Perché sia nella ristorazione professionale, ma anche in quella casalinga, dobbiamo sempre economizzare. Non possiamo pagare un carciofo quasi due euro l'uno e poi buttarne via praticamente tutto il gambo. Questo sarebbe una follia. Anche perché poi, noi compriamo il carciofo intero con tutti i petali e le spine. Però poi il carciofo va pulito, va ricavato solamente il cuore. Quindi bisogna stare molto attenti ad utilizzarlo e a trattarlo. Teniamo appunto il gambo, il più gambo possibile. Lo sbucciamo, perché la parte esterna è molto fibrosa. E poi ovviamente cerchiamo di togliere la barbetta centrale. Quindi andiamo proprio ad eliminare sia i, diciamo, come si chiamano, le spine, ecco. Adesso cercavo consensi ad Andrea, perché lui sui carciofi è ancora più esperto di me. Però cerchiamo di togliere bene le spine centrali e soprattutto la barbetta, quindi il petalo interno. Vi ricordo, e qui ringrazio Raffaella per questo, che mi potete anche scrivere, come tutte le dirette, come di consueto, potete scrivermi in diretta. Ovviamente raccontatemi anche quello che avete fatto durante le vacanze, però mi potete scrivere per porre delle domande oppure per, appunto, darmi qualche consiglio o chiedermi qualche consiglio sulla cucina che stiamo preparando oggi stesso. Bene, una volta puliti i carciofi, li rimettiamo, li reimmergiamo in acqua e andiamo avanti con la pulizia. Quindi togliamo sempre la barbetta. Questa è molto importante eliminarla, perché poi è davvero fastidiosa durante le preparazioni. Togliamo, appunto, la barbetta centrale e mi raccomando, assicuratevi di togliere anche tutte le spine del cuore, perché a volte le spine arrivano fino al centro e quindi bisogna eliminarle. Bene. Ce ne sono ancora? Eccolo qua. Allora, dai, raccontatemi un po' in diretta. Potete andare sia su Facebook, sulla nostra pagina Facebook Club Academy, oppure su clubacademy.it e sotto nei commenti potete scrivermi in diretta. Che cosa vuoi, Raffaella? Perché vedo Raffaella che si sbraccia. Cosa c'è? Vuole? Vuole che vi dica una cosa importante. Ok? Vuole che vi dica una cosa importante. e adesso ve la dirò. Adesso sarete tutti collegati, tutti pronti, perché dalle 23 e 59 del 7 di gennaio potrete scusate, fino alle 23 eh, dice no, fino alle 23 ce l'ho scritto qui, così almeno non me lo dimentico. Fino alle 23 e 59 del 7 di gennaio, quindi non della Befana, ma del giorno successivo, quindi fino alla mezzanotte del giorno successivo, potete accedere alla strena della Befana, quella che vi porto io oggi in diretta. Cioè, potete acquistare i corsi trimestrali, semestrali o annuali di Club Academy ad un prezzo irripetibile. Ok? Andate a vederlo, chi conosce Club Academy lo sa, andate a scoprirli. E la cosa bella, il regalo che vi facciamo è anche quello che ad ogni rinnovo potrete mantenere quel prezzo, quindi bloccherete quel prezzo della strena della Befana. Ok? Quindi andate a farvi un giro, basta scegliere l'abbonamento che preferite e cliccare. Ok? Cliccare. Quindi cercate di andare a vedere perché i prezzi sono davvero molto concorrenziali rispetto ai prezzi canonici di Club Academy. Quindi cercate di comprarli. Vi ripeto, quando acquisterete un corso rimarrete, bloccherete il prezzo anche nei rinnovi successivi. Va bene? E poi ragazzi, quest'anno, adesso io vi giuro che cucinerò, però quest'anno Club Academy veramente ha delle cose nuovissime, è un nuovo anno. Adesso giusto, io qui mi sono fatto un appunto, ovviamente ci sono tutte le accademie precedenti perché non vengono mai eliminate, vengono sempre mantenute sul nostro sito, però abbiamo aggiunto anche, pensate, una nuova accademia di Luca Montersino, di pasticceria, quindi già questo vi dice quanto teniamo a voi, a chi segue Luca e a chi ovviamente vuole imparare le tecniche di pasticceria da uno dei più grandi maestri. Poi ci sarà l'Accademia della Pizza, ok? Grande novità. Poi ci sarà sempre Fabio, Fabione Campoli, che saluto, con il suo percorso didattico, cioè l'Accademia delle Carni, questa volta si faranno il pollo ed il maiale, quindi imparerete perfettamente ad utilizzare sia il pollo che il maiale da uno dei più grandi maestri della televisione italiana e della cucina italiana. Poi ci sarà Patrizia Forlin che fa il corso base, quindi per chi si affacciasse alla cucina da poco, per chi volesse imparare veramente le prime tecniche, Patrizia Forlin vi mostrerà come appunto avere, come imparare il corso base. Poi l'Accademia del Pesce, la pasticceria regionale, una grande novità, cottura sottovuoto a bassa temperatura, quindi per tenerci al passo con la cucina moderna e poi anche io nel mio piccolo ho fatto due corsi veramente sfiziosi, uno sui fritti e le frittelle di carnevale, quindi frittelle dolci e poi un altro, quindi fritti e pastelle e un altro sui fritti regionali italiani, quelli più buoni, più tradizionali, quelli più ricercati. Io direi che Club Academy anche quest'anno vi offre grandi opportunità, andatele a scoprire sul nostro sito. Ecco, allora, adesso, siccome vi ho detto quello che ci tenevo a dire, perché è importante che capiate che siamo sempre a cercare di darvi un continuo aggiornamento anche sulla cucina sia professionale che amatoriale, adesso però andiamo avanti con la nostra ricetta, perché dobbiamo innanzitutto tagliare un po' di cipolla che andremo a tritare finemente e l'andremo a rosolare in olio, a rosolare in olio ben caldo, ovviamente per portare a cottura i nostri carciofi. Allora, prendiamo la cipolla, la tritiamo, vi ricordo che io sono ancora qui che aspetto le vostre domande e poi mi sto un po' offendendo perché aspettavo anche gli auguri da voi a me, io li ho fatti a voi, no? Quindi, dai, qualcuno mi scriva in diretta, basta andare sotto al video e cliccare e commentare, poi c'è Raffaella che mi trasferisce tutte le domande, io sono qui già con il mio smartphone pronto per sentire quello che avete da dire e da chiedermi. Bene, mettiamo un pochettino di cipolla in un filo di olio, ne mettiamo ancora un po'. Oh, finalmente arriva Giuseppe, ciao Giuseppe, buon anno a tutti, buon anno anche a te caro Giuseppe. Bene, bene, ciao Graziella, vedi, vedi che ci siete. Si vede che queste feste, chi lo sa, vi hanno un po' appesantito, magari avete mangiato tanto, anzi, scrivetemi che cosa avete preparato, vigilia, pranzo di Natale e cenone di Capodanno, io questo voglio sapere, ok? Nel frattempo, io vado a tagliare in modo molto fine i carciofi, vedete? Quindi, li andiamo a tagliare a fettine sottili, magari gli diamo anche un bel taglietto in mezzo e li mettiamo a cuocere. Ecco, una cosa molto importante, i carciofi, Angelica, 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 ciao, come stai? Come sostituire i carciofi? Allora, con qualunque ortaggio di colore verde, che possono essere appunto gli spinaci, le vietole, i cavoli, i broccoli, le cime di rapa, con tutto quello che vuoi, davvero. Basta trattarli più o meno come sto facendo io, quindi, se sono, anche col sedano rapa, che non è verde, è bianco, ma è buonissimo. Oppure con, che so, le patate tagliate a fettine sottili, le carote, i piselli, quello che vuoi, davvero, con qualunque verdura. Più o meno, diciamo che, la, come dire, la preparazione è molto simile. Un soffritto di olio e cipolla e poi tagli, pulisci ovviamente l'ortaggio che preferisci, lo metti a rosolare con l'olio, la cipolla, ovviamente un pizzico di sale e poi, piano piano, di tanto in tanto, se dovesse impiegare molto a cuocere, i carciofi, ripeto, sono molto veloci, ma magari qualche, qualche ortaggio impiega più tempo, puoi tranquillamente aggiungere un goccino di acqua o vino bianco per insaporirli. Io continuo a tagliare i carciofi e vi stavo dicendo, prima appunto di salutare Angelica, che, quando tagliamo i carciofi, purtroppo, non abbiamo il tempo di metterli da parte e poi portarli in cottura tutti insieme, quindi, ogni carciofo che tagliamo, poi lo dobbiamo subito mettere a cuocere, altrimenti, annerirebbero, quindi è importante che li tagliamo e li utilizziamo immediatamente. Nel frattempo, mentre taglio, vedo che sono arrivate altre domande, la Cecilia, auguri, e grazie per questa diretta, ciao Cecilia, tanti auguri anche a te, un bacione. Graziella, finalmente, contentissima di essere qui, ciao Graziella, buon anno dalla mia stanzetta di Binago, dove sono in isolamento, graziella, graziella, quanto ti capisco, pensa che io sono stato l'unico non, attenzione, l'unico non in quarantena della mia famiglia, questo significa che di fatto ero l'unico in quarantena, perché ero da solo. Luciano, invece, buonasera, buon anno a tutti, ciao Luciano, seguaci di Club Academy, e a tutto lo staff, salutiamo ovviamente tutto lo staff. Fabio e Patrizia in prima linea da Luciano di Taranto, questa serata con Poggi è una vera befana per noi, bene Luciano, grazie mille, grazie per i saluti, riferirò a Fabio e a Patrizia. Hamid, ciao Mattia, tanzissimi auguri da Reggio Calabria, chef Hamid, mi manchi, ciao, ciao, che piacere vederti, davvero, Hamid è un grande chef che ovviamente abita a Reggio Calabria, lavora a Reggio Calabria, grande maestro del bergamotto e lo saluto con veramente con affetto, un uomo meraviglioso, ciao Hamid, grazie. Bene, andiamo avanti, continuiamo ad andare avanti, perché abbiamo da finire di tagliare i carciofi, lo so, parlo tanto, voi avrete pensato, anno nuovo, vita nuova e invece no, Mattia parla sempre tanto come prima, eh, lo so, ma del resto è la mia indole. Saro, ciao, Saro, ciao, 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 sono Saro d'Amatrice, buon anno, caro Mattia, ciao Saro, io rido perché Saro d'Amatrice mi ricorda un signore che ho conosciuto anni fa che è stato veramente un maestro di vita per me, ciao Saro, grazie per averci iscritto, bene, ci siamo amici, ci siamo quasi, perché io ho quasi finito di tagliare i carciofi, Mario, Mattia, anche io se non ho chiuso nella mia stanzetta, di nuovo auguri da Sorrento, Mario, mi dispiace tanto che tu sia chiuso nella tua stanzetta, però pensa che quando uscirai dalla tua stanzetta avrai Sorrento davanti a te, quindi stai tranquillo che fra poco tornerai a sorridere, tieni duro. La Mary mi dice Mattia, ti vogliamo così, sorridente, eh, lo so, perché parlo tanto, lo so, avete ragione, io parlo, ahimè, bene, 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 allora, parlo ma poi mi distraggo, vedete, poi non riesco a cucinare, non mi fate cucinare, però del resto questa è una diretta in cui non ci possiamo non fare gli auguri a vicenda. Nadia, Nadia, ti ringrazio, mi dice, caro Mattia, parli tanto ma è tanto piacevole, grazie Nadia, grazie mille davvero. Bene, finalmente ho finito, i carciofi sono tritati, sono affettati, li mettiamo in cottura e poi come sempre anche qui non è cambiato nulla dall'anno scorso, mi raccomando quando mettiamo in cottura le verdure mettiamo anche mettiamo anche il sale, eh, questo è molto molto importante perché il sale soprattutto con i carciofi ci permette di cuocerli più velocemente e in modo più efficace perché tutta quell'acqua che hanno all'interno verrà eliminata ok allora controllate bene l'umidità all'interno della pentola eventualmente potete aggiungere dell'olio come sto facendo io oppure un goccino di acqua di tanto in tanto laddove fosse necessario adesso adesso non ci resta che aspettare che i carciofi cuociano e mostrarvi Andre io questa la metto la metto dietro e mostrarvi che cosa ho preparato ma prima salutiamo Sonia ciao Sonia dice che è la prima diretta con me sei simpaticissimo Club Academy buon anno a tutti grazie Sonia benvenuta mi raccomando la prima ma non l'ultima io qui ti aspetto la mitica Nunziatina Nunziatina De Luca che è un'immancabile presenza a queste dirette buonasera e buon anno a tutti ogni diretta con te Mattia è sempre una gioia soprattutto viene l'acquolina in bocca ma questo non è merito mio è merito di facile con gusto mi dai sempre spunto per cucinare cose buone in questa Germania gelida lo so Nunziatina aspettavo proprio questo di appunto salutarti e di dire che Nunziatina è una di quelle italiane all'estero che ci seguono proprio dalla Germania quindi grande Nunziatina Fulvia anche dice prima diretta anche per me un saluto da Asti e buon anno Mattia cara Fulvia grazie mille benvenuta anche a te mi raccomando speriamo di rivederci presto alla prossima diretta anche perché noi ne facciamo una al mese ma quando la facciamo la facciamo bene ok adesso portiamo a cottura i carciofi nel frattempo vi mostro che cosa ho combinato dietro le quinte anzi che cosa ha combinato Andrea abbiamo preso la pasta dei cannelloni ovviamente farò finta di non aver sentito e vi dirò voi mi direte Mattia noi li abbiamo comprati già fatti li abbiamo solo sbollentati va bene però se avete tempo se vi piace cucinare se volete anche imparare bene a cucinare fate voi l'impasto potete usare le classiche 10 uova su chilo di farina oppure potete anche usare con qualche tuorlo in più e magari rendere i cannelloni ancora più sfiziosi comunque prendiamo qualunque tipo di impasto voi abbiate lo stendete lo sbollentate per 5-10 secondi al massimo in acqua bollente poi lo scolate e lo mettete a raffreddare esattamente come ha fatto Andrea e vedete Andrea tra uno strato e l'altro di cannellone ha già anticipato i tempi mettendo un pochettino di parmigiano guardate vedete ha messo già il parmigiano grattugiato in modo che faccia staccare i cannelloni ma che tra l'altro li insaporisca anche Stefi buon anno e complimenti abbonamento fatto brava Stefi ti ricordo che siccome l'hai fatto entro le 23.59 del 7 di gennaio quindi del giorno di dopodomani hai diritto ad ogni rinnovo non solo a pagarlo meno come hai fatto oggi ma a mantenere quel prezzo ad ogni rinnovo che farai in futuro quindi hai fatto davvero una ottima scelta adesso qui bisogna abbassare un po' la fiamma altrimenti i carciofi diventano troppo croccanti e noi non vogliamo dei carciofi croccanti e poi Davide da Newcastle grande Davide dice buon anno a tutti italiano all'estero sempre presente Davide da Newcastle bene Davide grazie per averci seguito anche dalla Gran Bretagna quindi veramente per noi è un vero onore prepariamo in tuo onore in onore di tutti gli italiani all'estero ma non solo prepariamo un piatto che troverete caro Davide ecco forse ci sarà un po' più di difficoltà perché questo piatto lo troverete sulla nostra rivista nel mese di gennaio facile e con gusto non sono certo che a Newcastle si trova si trovi questa rivista però chi lo sa chi lo sa non è detto ok allora andiamo avanti perché i nostri carciofi come vedete continuano a cuocere imperterriti ovviamente diminuiranno un po' di volume e l'altra cosa importante è che non sarà necessario cuocerli completamente ma potremo tranquillamente come dire potremo anche tranquillamente mantenerli leggermente più indietro di cottura questo perché poi oltre alla cottura in padella subiranno anche una cottura al forno adesso invece dobbiamo fare una cosa una cosa molto importante come vedete io ho della ricotta del parmigiano e della besciamella sapete no come si prepara la besciamella si fa un roux quindi si sciolgono burro un roux chiaro burro e farina si fanno addensare dopodiché si unisce il latte precedentemente intiepidito ma non scaldato intiepidito se lo scaldiamo la farina appena arriva a 60 gradi gelifica e quindi lo rapprende immediatamente invece deve essere un processo che avviene in modo graduale che cosa significa che quindi prepariamo il burro lo sciogliamo mettiamo un po' di farina la stemperiamo nel burro e poi uniamo il latte tiepido lo uniamo al burro e alla farina cioè al roux scritto R-O-U-X e poi adesso ti dico Mario adesso ti dico ciao Mario e poi lo facciamo addensare girandolo continuamente a fuoco lento per ottenere la classica besciamella cioè questa salsa densa bianca a base di burro latte e farina questa è la base poi molti nella besciamella ad esempio mettono anche la noce moscata Mario ciao Mario mi scrive Mattia senti ma se invece della pasta faccio le crepes mica le devo sbollentare certo che no Mario se tu fai le crepes le vai a farcire direttamente le puoi farcire con la stessa farcitura però ovviamente sarà una cosa molto più diretta la farcia la farcia invece Simona mi dice oltre ai carciofi che farcia c'è adesso te lo dico subito guarda c'è ricotta parmigiano mentuccia fresca che andiamo a tritare ecco allora siccome questa farcia la metteremo in un sac a poche ora vi farò vedere che sia la mentuccia sia una parte non tutti ma una parte dei carciofi dovranno essere tritati quindi io metto una parte di carciofi sul tagliere e li vado a tritare leggermente perché perché altrimenti poi non uscirebbero dalla sac a poche quindi questo è un passaggio assolutamente obbligato in più il calore dei carciofi lascerà che la mentuccia sprigioni tutto lo suo sapore Dalia ciao Dalia saluti da Dalia in Egitto Dalia che bello anch'io sono chiusa in stanza fortuna ci sono queste belle dirette Dalia hai ragione hai ragione però anche tu ricordati che fra poco uscirai dalla tua stanzetta e sarai in un luogo meraviglioso Nicoletta che saluto mi dice tanti auguri di un anno sereno le tue video lezioni sono davvero belle grazie Nicoletta questo mi fa molto piacere tra l'altro rispetto a quelle dell'anno scorso ce ne sono due nuove una sui fritti regionali italiani ci sono dei fritti liguri fantastici ci sono dei fritti siciliani dei fritti trentini ce n'è veramente di tutto dal nord al sud e poi ho appena girato un'altra un'altra lezione un altro corso sui fritti di carnevale quindi tutti i fritti dolci fantastici anche qui dal nord al sud dell'Italia ammazza ragazzi oggi siete caldi domande su domande Donatella ciao Donatella ciao Mattia sono Donatella intanto auguri a te e a Fabio e a Patrizia grazie Donatella domanda se dovessi rinnovarlo ma domanda se dove no questa qui è una roba tecnica che vedrà vedrà Raffaella domanda ma la besciamella se la preparo prima o poi non forma una pellicola esattamente cara cara Donatella sì la besciamella forma una pellicola ed è per questo che va conservata in questo esatto modo guardate ve lo faccio vedere ora una volta per tutte così non ci saranno più dubbi ecco come si conserva la besciamella ok o la si mette nei sacchetti sottovuoto per chi avesse appunto l'opportunità oppure si prende la pellicola si mette la besciamella nel contenitore dove la vogliamo mantenere ok quindi qualunque contenitore va bene a patto che non sia ovviamente in acciaio in alluminio se la vogliamo mantenere a lungo poi prendiamo la pellicola e la mettiamo la schiacciamo sulla besciamella in modo che arrivi a contatto con la crema ok quindi vedete io ne taglio un po' in abbondanza e la metto a contatto questo si chiama pellicola a contatto poi andiamo a premere la pellicola sui bordi della besciamella copriamo con il coperchio con il sigillo del del contenitore che stiamo utilizzando e poi oppure mettiamo anche semplicemente un altro foglio di pellicola non più a contatto ma questa volta direttamente sul sul come coperchio vedete possiamo anche mettere un foglio di pellicola così e a questo punto la possiamo mantenere per due tre massimo quattro giorni senza che faccia la crosticina quindi questo è il trucco quando la dovremo utilizzare basterà fare così togliere la pellicola a contatto e utilizzarla ok buon anno a tutti Davide da Newcastle ciao Davide è difficile da recuperare i carciofi freschi qui in UK potrei utilizzare i carciofi sott'olio allora Davide potresti utilizzarli però se li vuoi insaporire va bene li puoi comunque cuocere in olio e cipolla però se dovessi utilizzarli sott'olio dovresti a mio parere utilizzarli già così come sono quindi senza cuocerli ma metterli direttamente dopo averli tritati vedi in questo modo metterli direttamente nella farcia però si puoi farlo Ratiba Ratiba ciao Ratiba si può fare salsa mornè un po' più arricchita beh arricchita in che cosa di che cosa intendi però sì sì direi che direi che non c'è non c'è non c'è problema e Simona invece dice nonostante utilizzi una frusta per preparare la besciamella alla fine ha sempre i grumi come mai è una questione di tempistiche e soprattutto di temperature ti spiego quando prepari la besciamella è importante che burro e farina si leghino completamente se tu metti la farina nel burro che è già troppo caldo la farina ovviamente a 62 gradi essendo un amido coagula quindi se il burro è già lì che frigge e tu metti la farina è un disastro perché non riesci a stemperarla invece il trucco è quello di far solamente sciogliere il burro e poi unire la farina ok mettere mettere stemperarla bene e a quel punto portarla a cottura un'altra cosa fondamentale è la quantità cioè troppa farina in poco burro crea i grumi crea un impasto e quindi l'impasto è più difficile da sciogliere con il latte e anche lì quando metti il latte non metterlo tutto in una volta ma ne metti un pochettino fai una crema e poi aggiungi la restante parte perché altrimenti si creano dei grumi bisogna sempre fare le cose poco alla volta quindi giusta dose di burro e farina questo significa tanto burro e poca farina perché tanto la farina poi è un forte addensante poi metti poco latte lo stemperi bene e aggiungi quello che avanza perché altrimenti se tu mettessi tutto il latte in una volta la farina non si scioglierebbe quindi questi secondo me sono i giusti consigli da dare quando si prepara la besciamella adesso ho messo i carciofi insieme a ricotta e al parmigiano mettiamo anche ovviamente il sale per salare il tutto ho messo la mentuccia e per rendere cremoso il composto mettiamo anche un pochettino appunto di besciamella ok besciamella che ci servirà anche dopo per condire nella parte esterna i nostri cannelloni ecco fatto ne mettiamo giusto due o tre cucchiai amalgamiamo bene fino ad ottenere un composto cremoso ed omogeneo bene mettiamo ancora un paio di cucchiai non abbiate paura però mi raccomando non mettete tutta la besciamella in una volta altrimenti rischiereste poi di avere come dire un composto troppo liquido il che non andrebbe bene perfetto adesso vi do un vi do un suggerimento una ricetta che ho fatto poco tempo fa se voi prendete i porri avete presente il porro classico lo sbollentate in acqua bollente senza cuocerlo troppo poi lo incidete e aprite uno alla volta i petali che lo compongono il porro di fatto ha la stessa forma della pasta dei cannelloni quindi anziché utilizzare i cannelloni di di pasta di impasto potete utilizzare e farcire i cannelloni con i petali del porro quindi un cannellone vegetariano a base di porri e carciofi starebbe starebbe benissimo così come fareste i normali i normali diciamo cannelloni con l'impasto li potete fare anche con appunto la la pelle del porro con i petali del porro allora prendiamo una teglia come vedete io ho già imburrato la teglia prendiamo una sac à poche qui sotto la montagna di cose che mi devo ricordare di dirvi ma più o meno mi sono già ricordato cioè che ci sono tantissimi nuovi corsi di cucina in vendita online su Club Academy e che fino alle 23.59 del 7 del 7 di gennaio potrete comprare e acquistare questi corsi ad un prezzo veramente super speciale irripetibile allora prendiamo l'impasto l'impasto che come vedete è abbastanza sodo si riesce a lavorare bene lo andiamo a mettere con un aiuto di una spatola in silicone dentro la sac à poche questa ciotola non vuole stare ferma ma al limite chiederò l'aiuto dal pubblico cioè da Andrea grazie Andrea versiamo l'impasto all'interno della sac à poche e poi mi raccomando andiamo magari con l'aiuto anche di un tarocco eccolo qui questa è una cosa importante andiamo a recuperare bene tutto il composto che sta all'interno vedete in questo modo lo spingiamo bene non sprecandone nemmeno un grammo poi quando il composto è stato spinto all'interno giriamo la sac à poche chiudendola e andiamo a farcire i nostri cannelloni attenzione perché dobbiamo fare dobbiamo riempire la teglia quindi non bisogna esagerare con con la quantità di impasto io ho già messo del burro ma oltre al burro andiamo a mettere un pochettino di besciamella sul fondo della teglia questo ci permetterà di tenerli attaccati e poi di cuocerli in modo molto più efficace in forno una volta richiusi li andiamo ad appoggiare sul fondo della teglia e andiamo avanti quindi ne prendiamo un altro non ho ancora messo parmigiano anche se volendo potremo mettere un po' di parmigiano sul fondo così ma io non lo metto perché Andrea ha avuto la grande idea di cospargere i cannelloni già con il parmigiano quindi non lo metto perché ci ha già pensato Andrea facciamo un altro cannellone lo arrotoliamo e per chi mi avesse chiesto prima delle crepes la stessa cosa vale per le crepes quindi si prendono le crepes si farciscono con questa salsa a base di carciofi voilà si arrotolano e si mettono in cottura Antonella ciao Antonella per la ricotta è indifferente se mucca o pecora dipende dal gusto tu cosa consigli si guarda è indifferente sicuramente la ricotta di pecora è una ricotta un po' più erbacea soprattutto se è una ricotta fatta davvero artigianalmente quindi va benissimo ricordati sempre che parliamo comunque di una ricetta rustica anche a base di menta qui c'è un po' di mentuccia e la menta sembra una cavolata però essendo molto fresca va proprio a smorzare quella che è la forza della ricotta in generale quindi non ti preoccupare che questa ricetta è bilanciata anche per le ricotte più forti bene io farò uno strato di cannelloni poi se siete veramente affamati adesso ormai le feste sono passate però se siamo nelle feste potete fare anche un paio di strati nessuno ve lo vieta anzi mi raccomando non lesinate quindi io farò solamente come vedete un solo strato ma nessuno vi ripeto vi vieta di farne anche un altro ecco fatto quando arriviamo alla fine dei nostri cannelloni dobbiamo dobbiamo andare a cospargere tutta la tutta la parte superiore dei cannelloni con la besciamella con il parmigiano e con un pochettino di burro o olio quindi mettiamo tanto parmigiano poi prendiamo la besciamella e la andiamo a mettere nella parte superiore cospargendoli completamente volendo volendo oltre alla besciamella potete mettere anche un pochettino della farcitura dei dei cannelloni però non è necessario perché se ben ricordate io che cosa ho fatto prima ho tenuto da parte ho tenuto da parte dei carciofi quindi i carciofi che ho tenuto da parte li userò per andare a farcire e ad insaporire i miei cannelloni in questo modo così poi avremo i carciofi sia nella parte superiore che nella parte interna tra l'altro volendo potete anche sbizzarrirvi con un pochettino di pinoli secondo me ci starebbero molto bene carciofi e pinoli è sempre un'abbinata vincente ok ci siamo io adesso ho parlato ho letto vi ho salutati sono partito devo dire bello galvanizzato perché è un nuovo anno e nuovo anno come per tutte le cose da sempre le novità danno sempre forza allora Mario chiede la farcia posso metterla anche con un cucchiaio ma certo che sì Mario certo che sì non formalizzatevi mai di fronte a queste cose la farcia si può tranquillamente mettere con un cucchiaio Simone Simona non doma delle vacanze di Natale e dei bagordi delle vacanze di Natale mi dice Mattia ma quella è la porzione per una singola persona giusto con la faccina che ride hai ragione Simona io te l'ho detto siamo siamo un po' tutti a dieta qui in Club Academy però ripeto fateli anche doppi e non guastano mai anzi allora adesso per far crocare i cannelloni possiamo mettere un pochettino di parmigiano ma non troppo perché altrimenti diventa davvero una crosta troppo troppo croccante e rischia anche di bruciare e poi un grasso un grasso che può essere il burro a fiocchetti messo qua e là oppure l'olio che in questo caso sta bene con i carciofi quindi io ho optato proprio per l'olio una cosa importante quando cuocete cannelloni o lasagne mi raccomando prendete fasciate un dito con la carta e pulite perfettamente i bordi ok dal parmigiano altrimenti quello poi brucerà in cottura perché è lì solo soletto attaccato appiccicato ai lati e quindi bisogna assolutamente eliminarlo fatto questo detto questo siamo pronti per infornare ma la domanda sorge spontanea Andre li abbiamo già pronti o no? no grande Andre così ce li cuociamo noi ce li cuociamo noi allora li mettiamo in forno a 200 gradi per 20-25 minuti però attenzione come tutte le cotture in forno guardiamoli sempre controlliamoli sempre ok perché non si sa mai voilà è così l'antipasto per Simona non è non è il primo piatto l'antipasto singolo per Simona è già in forno ed ora dobbiamo dedicarci a un'altra ricetta allora vieni Andre vieni che facciamo un po' di ordine perché l'altra ricetta è una ricetta dolce e vi chiederete ma come Simo in Puglia non si è mai a dieta hai ragione Simona hai ragione vero vero Simona o Simone questo non lo sappiamo Simo maschio o femmina effettivamente l'ho dato per scontato ma non sappiamo se è una donna o un uomo Mary invece va bene mettere anche della mozzarella sopra allora Mary va bene ricordati sempre che la mozzarella va fatta drenare è una cosa molto importante va fatta spurgare quindi la taglia a fette o a cubetti la metti in un colino la sali leggermente non troppo leggermente e ci metti un bel peso sopra perché tutta l'acqua deve uscire altrimenti là dentro diventerebbe una piscina di acqua di mozzarella questo è importante perché la mozzarella è buonissima è uno dei miei formaggi preferiti soprattutto al forno ma bisogna stare molto attenti alla fuoriuscita proprio dell'acqua ok allora mi sembra di aver corso la maratona oggi con tutte queste domande questi auguri eh Raffa invece anche Raffaella è lì che digita digit da dove digit Simo Simona bene bene Simona sì 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 allora vedi che avevo capito bene allora adesso abbiamo altre due ricette da preparare una sono gli strangolapreti che sono un piatto tipico a forma di gnocchetti di spinaci che vengono poi ovviamente nudi che vengono poi cotti in acqua bollente e saltati con burro e salvia l'altra è un brownie un brownie con le mele facciamo prima brownie eh tanto eh sì perché poi deve cuocere in forno però ce l'abbiamo già pronto cosa scegliamo cinque secondi quattro tre brownie o mele o strangolapreti prima strangolapreti vedi che quando lo metti sotto pressione poi Andrea mi mi tira fuori delle delle soddisfazioni allora gli strangolapreti gli strangolapreti sono adesso prendiamo tutto il necessario sono dei una specie di gnocchetti ok una specie di gnocchetti preparati con del pane ammollato nel latte con degli spinaci e poi con un pochettino di soffritto di cipolla uova e un po' di ricotta quella sarebbe la ricotta? ok perfetto non ne abbiamo fresca solo così secca giusto? ok scagliata sopra la mettiamo sopra perfetto attenzione perché abbiamo il pane che abbiamo ovviamente tagliato a cubetti questo è un pane un pane raffermo va benissimo lo stesso perché tanto poi lo andremo a bagnare lo copriamo completamente con abbondante latte tiepido ecco questa è una cosa importante il latte non è freddo ma può essere anche tiepido anzi il latte tiepido velocizza il processo di inzuppamento ok siccome questo pane a me piace bello rustico ha ancora la crosta bisogna aspettare qualche secondo in più perché la crosta impiega sempre di più a bagnarsi rispetto al rispetto ovviamente alla mollica quindi lo lasciamo da parte e ci dedichiamo agli spinaci ecco gli spinaci sono stati precedentemente bolliti in acqua bollente e salata poi dobbiamo tentare per quanto possibile di eliminare l'acqua in eccesso vedete io li vado proprio a strizzare per bene guardate quant'acqua continuano a cedere nonostante siano già stati messi su un colino c'è un trucco però per eliminare la maggiore quantità di acqua possibile quella di scaldarli cioè quello di cuocerli e quindi li andremo dopo averli sbollentati a ripassare in padella e li ripasseremo con un pochettino di cipolla così faremo un bel soffrittino con una cipollina tritata imbiondita vedete tagliata a quadretti poi aggiungeremo un po' di olio sempre a padella calda mi raccomando io sono genovese ma ci tengo a queste cose l'olio come tutti i grassi solo a caldo avrà darà la sua massima resa perché il burro se lo prendete dal frigorifero il volume del burro a freddo è un volume ma quando poi lo sciogliete si scioglie si fonde diventa un altro volume e anche l'olio anche per l'olio vale lo stesso anche se è già liquido però da caldo si allarga si aumenta di volume e quindi anche l'olio sicuramente avrà un aumento di volume ma l'aumento di volume corrisponde anche all'aumento di grasso che andiamo a mettere all'interno della preparazione quindi l'andiamo a ingrassare siccome si tende sempre a fare il meno grasso possibile il meno grasso possibile le preparazioni è meglio stare attenti ok mettiamo la cipolla rosolare nel frattempo è arrivata una domanda Vincenzo Mattia il latte consigli quello intero oppure parzialmente scremato guarda Vincenzo seppur sia una domanda pertinente ti dico la verità non ha davvero alcuna non fa davvero alcuna differenza semplicemente la differenza sta nella nella quantità di calorie nel senso che il latte intero è leggermente più calorico di quello scremato a parità più o meno di proteine e quindi volendo andrà ad ingrassare leggermente di più l'impasto però a livello tecnico di quello a livello proprio di quello che andrà a fare andrà a comporre chimicamente il latte intero rispetto a quello a quello parzialmente scremato non fa differenza invece Silvia se non si può usare il latte si può usare solo acqua sì ma per quanto mi riguarda è meglio piuttosto che usare l'acqua usare del brodo se tu hai del brodo tiepido del brodo freddo del brodo pronto magari in forno o in scusami in frigo o in congelatore che ti sei messa da parte puoi ammollare il latte con il brodo ed è una cosa veramente per cioè veramente molto buona quindi puoi puoi provare così per avere anche un pochettino più di sapore bene adesso tagliamo andiamo a tagliuzzare i nostri strangolapreti ricetta poverissima ma buonissima ok poverissima ma buonissima e li mettiamo insieme alle cipolle li mettiamo insieme alle cipolle quindi insieme al soffrittino di cipolle che mettiamo su un lato solo della della nostra padella perché ormai sono già ben calde quindi non vorrei che bruciassero e li andiamo a disidratare cioè li andiamo a andiamo a far evaporare tutta l'acqua in eccesso che c'è all'interno degli spinaci avete visto che io strizzandoli ne ho già ricavata un bel po' eccola qua guardate questa qui è l'acqua che c'era all'interno degli spinaci ma ovviamente ce n'è molta altra quindi per eliminarla dobbiamo cuocerli ed è quello che sto facendo ok per chi si fosse sintonizzato solamente adesso stiamo preparando mentre aspettiamo i cannelloni che cuociano in forno cannelloni veramente straordinari con ricotta besciamella carciofi e un pochettino di parmigiano sto preparando gli strangolapreti che sono una specie di gnocchi leggermente ovali che vengono poi cotti in acqua bollente e saltati con burro fuso e salvia però dicevo per quelli che si sono appena sintonizzati vi ricordo che un nuovo anno di Club Academy è iniziato e nel nuovo anno giusto così per informazione troverete una nuova accademia di pasticceria di Luca Montersino l'accademia della pizza poi Fabio Campoli con sempre l'accademia delle carni però con carni nuove pollo e maiale Patrizia Forlini invece con le basi della cucina e con il suo corso base quindi le nuove lezioni poi ci sarà l'accademia del pesce 2 la cottura sottovuoto e a bassa temperatura questo anche per i professionisti è importante perché cottura sottovuoto e a bassa temperatura fanno parte davvero della cucina moderna della cucina da ristorazione moderna ci permettono di risparmiare tempi di creare cibi migliori più sani ma soprattutto anche più organoletticamente più completi e poi ci sarà la pasticceria regionale voglio vedere quando arriveremo alla Liguria e faremo la sacripantina che buona e poi tante altre novità tipo i miei due corsi quelli che ho appena fatto che ho appena ultimato sulle fritture regionali quindi sui fritti regionali da nord a sud dell'Italia fritti salati e poi sui fritti di carnevale quindi tutte le frittelle di carnevale che si preparano dal Trentino fino alla Sicilia bene abbiamo pronti gli spinaci Andre prendiamo una ciotola eccola qua in questa ciotola versiamo gli spinaci a raffreddare e li versiamo con un pochettino bravo controlla un po' i cannelloni va perché non vorrei che ci dimenticassimo cose importanti versiamo gli spinaci mettiamo un pizzico di sale dopodiché uniamo il pane ben strizzato dal latte ok quindi prendiamo il pane lo strizziamo completamente mi raccomando quindi con forza ok e lo andiamo a sminuzzare all'interno ecco io ho mangiato tanti strangolapreti devo dire che la quantità di spinaci cioè il colore non è mai uguale alcuni sono più chiari quindi con più pane alcuni hanno anche la ricotta all'interno alcuni hanno solo la mollica del pane e alcuni invece sono più verdi quindi con più spinaci diciamo che secondo me è una cosa piuttosto soggettiva io uso le mani perché sono sempre il miglior modo per ottenere degli impasti uniformi e capire anche effettivamente la consistenza di un impasto continuo ad aggiungere il pane ben strizzato ricordatevi sempre che laddove c'è la crosta bisogna aspettare un po' più di tempo per ottenere un impasto omogeneo per ottenere un pane un pane morbido e con le mani vado proprio a sminuzzare pane e spinaci secondo me per la mia esperienza il giusto bilanciamento è proprio quello che sto ottenendo cioè un po' più verde rispetto al bianco un po' più verde rispetto al bianco però nemmeno troppo quindi una cosa che sia omogenea ecco diciamo così perfetto Andrè per favore portami una ciotola con un po' di acqua perché altrimenti qui mi tocca fare la diretta con le mani troppo sporche bene dopo aver amalgamato e sminuzzato bene pane e spinaci direi che la quantità va bene uniamo un pochettino di parmigiano ok adesso poi lo uniremo una volta lavatomi le mani uniamo un pochettino di parmigiano e soprattutto uniamo delle uova le uova le possiamo già unire tanto non devo toccare nulla anche il parmigiano voilà grazie Andre grazie mille fantastico perfetto e a questo punto prendiamo un cucchiaio e andiamo a finire ad ultimare appunto i nostri strangolapreti io ho messo due uova perché daranno consistenza ma soprattutto durante la cottura faranno sì che gli strangolapreti si coagulino meglio quindi diventeranno sodi immediatamente ecco mi raccomando e qui è una cosa a cui tengo davvero molto se preparate se preparate gli strangolapreti anche con la crosta del pane come ho fatto io abbiate un po' di pazienza fate ammollare bene il pane perché altrimenti poi i pezzettini di crosta rimarranno quindi bisogna cercare di essere un po' più accorti su quello perfetto prendiamo una spatola in silicone per recuperare bene tutto l'impasto che c'è sui bordi ecco qui e come vedete abbiamo l'impasto dei nostri strangolapreti ok ora questo impasto non è un caso che io mi sia fatto portare che io mi sia fatto portare l'acqua abbiamo due strade per per trattarlo la prima è quella di creare una sorta di come dire di salsicciotti e poi di tagliarli la seconda sicuramente più facile la seconda sicuramente più facile è quella di bagnarsi le mani e andare a creare delle palline alle quali andremo a conferire una vedete una forma leggermente ovale questo è lo strangolaprete Laura mi chiede Mattia l'induzione mi consente di cuocere a bassa temperatura? allora Laura questa è una bella domanda nel senso che la risposta ce l'ho adesso la elaboro e te la do nel senso che è una bella domanda perché l'induzione rispetto al fuoco tradizionale permette di mantenere una come dire una temperatura più uniforme quindi se tu metti l'induzione a una temperatura molto bassa quindi a una gradazione molto bassa ti permette una cottura sempre a quella gradazione di temperatura anche molto prolungata nel tempo però è anche vero che la bassa temperatura avviene avviene immersa in acqua immersa in un liquido tendenzialmente in acqua quindi tendenzialmente in acqua sotto gli 80 85 gradi sotto la temperatura minima di ebollizione dell'acqua ok quindi questo che cosa significa che l'induzione ti può permettere di cuocere a bassa temperatura però devi stare molto attenta cioè devi mantenere sempre quella temperatura costante per molte ore se cuoci un pesce magari anche bastano anche 40 minuti un'ora se cuoci l'uovo a bassa temperatura anche lì basta un'oretta un'oretta un quarto a 65 gradi però mantenere la temperatura di 65 gradi per un'ora e un quarto significa con l'induzione significa che ogni 5 minuti devi essere lì a controllare la temperatura e comunque a giocare con la potenza dell'induzione quindi volendo si può fare però è molto molto laborioso ecco la la bassa temperatura si può cuocere o nel forno a vapore se abbiamo dei forni magari di quelli più moderni quelli più all'avanguardia oppure con un semplicissimo runner il runner è un un attrezzino che una volta costava moltissimo oggi costa si trovano anche a 100-200 euro che è un attrezzo che si mette si immerge in una vasca di acqua l'acqua viene riscaldata alla temperatura che decidete voi e mantiene quella temperatura per ore quindi la temperatura avviene la bassa temperatura avviene sempre sotto vuoto questo significa che se tu prendi una macchina del sotto vuoto metti un filetto di carne grazie Andre grande perfetti metti un filetto di carne sotto vuoto e lo metti immerso nella vasca con il runner quello ti manterrà sempre la temperatura ipotizziamo di 62 gradi ok ti manterrà costante per molte ore e quindi potrai ottenere appunto la cottura a bassa temperatura diletta orsolan si possono preparare prima ed abbatterli certo che sì noi stiamo parlando adesso di letta dei nostri strangolapreti certo che sì li prepari crudi li abbatti e poi li cuoci li cuoci da abbattuti assolutamente perché no Angelica si possono fare tipo gnocchi assolutamente sì assolutamente sì se volete sostituire il pane con un pochettino di patate lesse perché no se volete sostituirlo appunto con qualche tipo di addensante perché no adesso i nostri strangolapreti sono pronti non mi resta che preparare che sciogliere il burro in un pentolino guarda lo facciamo sì bravo André perfetto sciogliamo il burro in un pentolino cuociamo gli strangolapreti e poi li andremo a li andremo a a servire quindi André preparati con il piatto per servirli ok scegli ne uno bello mi raccomando magari un po' un po' fondo ecco qua prendiamo il burro tagliato a cubetti lo facciamo fondere e al burro cercando di non alzare mai troppo la fiamma aggiungiamo un pochettino di salvia vedete queste belle foglioni di salvia che ci permetteranno di ottenere poi il classico sapore sentore del burro e salvia ok io devo dire che sono sempre stato un amante del burro e salvia nell'acqua della pasta invece dobbiamo mettere un pochettino di sale abbiamo del sale grosso oppure è già messo c'è già il sale perfetto mi raccomando sempre sale grosso sempre con la pasta già calda con l'acqua della pasta già calda perfetto appena il burro si scioglie andiamo con delicatezza a tuffare gli strangolapreti ecco aumentiamo un po' perché altrimenti l'acqua deve bollire mi raccomando altrimenti è difficile poi scolarli bene non li tocchiamo troppo perché sono molto delicati andiamo a aspettare che vengano un po' in superficie e poi li andremo a scolare e a saltare in padella metto da parte ovviamente il il burro ecco io personalmente siccome sono un po' scettico sul sul legame di pane e pane e spinaci personalmente ci avrei messo un pochettino di ricotta all'interno perché effettivamente quello che accade è che gli spinaci non si legano però vediamo se riusciamo a sistemare comunque la faccenda anche se sono sincero secondo me no esatto allora Andre facciamo un'altra cosa mi dai un po' di farina per favore ok io mentre preparavo questi strangolapreti devo dire che ero un po' scettico perché ci sono poche uova ci sono gli spinaci e c'è il pane bagnato nel latte è vero ma non c'è qualcosa che leghi veramente i nostri i nostri strangolapreti quindi se mettiamo una parte amidacea oppure una parte elegante come la ricotta sicuramente grazie sicuramente riusciremo ad ottenere un risultato migliore allora Andre guarda fai così prendi no no non togliere tutto prendi per favore la solamente il cestello e lasciami pure l'acqua bollente ecco vedete adesso io aggiungo un po' di farina e vedrete che il risultato cambierà totalmente perché perché la farina è un potente elegante un forte elegante quindi siccome già abbiamo avuto grazie siccome abbiamo già avuto la difficoltà di non poter bagnare abbondantemente il nostro il nostro come dire il nostro il nostro pane abbiamo messo due uova insieme agli spinaci che comunque non sono molte perché bisogna sempre mettere meno uova possibile quando si prepara un impasto del genere vedrete che con la farina riusciremo ad ottenere un composto decisamente più resistente allora prendiamo l'impasto lo andiamo a tirare come se fosse un gnocco e poi lo andiamo a tagliare a gnocchetto ecco qua così vedrete esattamente come abbiamo fatto prima lo facciamo anche con un altro po' devo dire che quando si tratta di preparare gli gnocchi è sempre un po' difficoltoso buonasera a tutti le foglie della savia le lascio intere per estetica guarda le lascio intere per una questione di cottura cioè non devono mai bruciare nessun tipo di come dire nessun tipo di di erba di erba aromatica deve mai poter bruciare non dobbiamo mai rischiare questo perché altrimenti diventa amara quindi se le lasciamo intere sicuramente avremo un prodotto migliore un prodotto più buono più dolce e meno amaro in questo caso ti dico la verità se tu intendi di tritare la salvia io te lo sconsiglio vivamente perché la salvia è un prodotto che deve conferire sapore ma non va mangiato almeno per quanto mi riguarda soprattutto nel burro quindi io direi di lasciarla intera e poi eventualmente eliminarla oppure utilizzarla come dicevi tu giustamente per per abbellire il piatto ok quindi la puoi utilizzare proprio in quel modo altra cosa che puoi fare è eliminare la salvia cotta e metterne di cruda per solamente come diciamo guarnizione del piatto bene abbiamo gli strangolapreti li andiamo mi vado a pulire un po' le mani e poi li andiamo a cuocere vedrete che questa volta con un effetto totalmente diverso abbassiamo leggermente l'acqua bolle bolle bene io cerco sempre di formarli un po' così con le mani vedete in questo modo e poi li tuffiamo in cottura l'ultimo avete notato che il burro assolutamente non si è imbiondito non ha cambiato colore non ha cambiato consistenza è rimasto così esattamente com'era questa è una cosa molto importante ok molto molto importante perché il burro non deve assolutamente bruciare mai soprattutto quando si prepara un buon burro e salvia puliamo il tagliere e andiamo a controllare i nostri strangolapreti che questa volta sembra proprio abbiano fatto il loro dovere eh oh non è che tutto tutte le ciambelle possono venire col buco eh voilà li scoliamo guardate che belli ormai una volta consolidati grazie anche ovviamente alla farina sono pronti per essere insaporiti e li andiamo a insaporire proprio con il burro la salvia ed infine andremo a mettere anche un pochettino di ricotta a scaglie quindi ricotta salata direttamente a scaglie molto bene li rosoliamo per qualche secondo dopodiché li andiamo ad impiattare vedete per ora non metto all'interno le foglie di salvia poi ne metteremo una giusto per guarnizione direttamente sul piatto li mettiamo sul fondo di un piatto in questo caso può essere anche un piatto ovviamente fondo come questo poi li irroriamo con un pochettino del loro burro di cottura mi raccomando questo è importante perché è un burro saporitissimo ed infine andiamo a scagliare un pochettino di ricotta fresca salata vedete guardate che meraviglia e le scagliamo direttamente sui nostri strangolapreti sottile mi raccomando un ciuffo di menta scusate di salvia per guarnire e il piatto è pronto ok strangolapreti di spinaci ci hanno fatto un po' tribolare di spinaci e pane quindi strangolapreti classici ai quali ho assolutamente dovuto aggiungere un pochettino di farina più che altro per mantenerli compatti Ilaria buonasera a tutti le foglie ah no Mario se uso pane senza crosta l'impasto non viene più sodo inoltre nel caso se usassi amido allora guarda Mario l'impasto sicuramente viene più sodo però secondo me io l'ho già detto prima ma lo ribadisco senza una parte addensante tipo un po' di ricotta o al limite un uovo in più oppure un pochettino più di parmigiano o la farina e la farina è un amido diventa complicato poi ottenerli io ne ho messa pochissima farina ne ho messo due cucchiai al massimo l'amido va bene l'amido può andare bene però anche lì devi stare un po' attento con le quantità perché la quantità di farina la farina è un amido molto grezzo però in questo caso ti permette di coagulare molto più velocemente gli strangolapreti invece se utilizzi un amido più fine tipo l'amido di riso l'amido di mais è sempre più come dire complicato bisogna stare molto attenti io avevo visto che gli gnocchi morbidi li facevano riposare 24 ore prima nella fecola vedi vedi diletta assolutamente è un po' lo stesso lo stesso discorso cioè si mettono in un amido perché poi l'amido che cosa fa crea una pellicola di gel una pellicola di colla perché di fatto l'amido è una colla che permette agli strangolapreti di rimanere insieme senza è davvero complicato poterli ottenere si può usare il pancarè sì si può usare a questo punto ti ripeto sempre come dice Mario giustamente sempre meglio essere sicuri di non mettere la crosta perché effettivamente la crosta ha bisogno di più tempo per poter legarsi e per poter ammorbidirsi con il latte tempo che magari in questo caso io non avevo però sicuramente il problema che è sorto per una questione di amido all'interno per una questione di legante di collante senza farina senza come dice come mi è stato suggerito senza immergerli nell'amido diventa davvero molto complicato però con pochissime mosse e poca fatica ce l'abbiamo fatta lo stesso li abbiamo preparati ma non solo abbiamo preparato anche i cannelloni guardate qua cannelloni cannelloni dammi un piatto rotondo Andre per favore che le andiamo a servire Simona dov'è Simona perché qui prima mi ha provocato mi ha detto ma quella è la porzione per una persona sola eh lo so hai ragione in Puglia si mangia tanto si mangia bene i nostri cannelloni sono pronti li andiamo a tagliare e a impiattare guardate che meraviglia carciofi croccanti sopra besciamella croccante con una bella crosticina e all'interno abbiamo messo ricotta abbiamo messo un pochettino di besciamella parmigiano e dei carciofi saltati con un po' di cipolla volendo anche solo dell'aglio potete scegliere aglio o cipolla saltati con cipolla con olio grazie Andre con olio con cipolla e con un pochettino di mentuccia mentuccia fresca e voilà guardate che belli cannelloni questi ragazzi sono uno spettacolo guardate che meraviglia i cannelloni ai carciofi ok quindi oggi abbiamo preparato due primi che potete trovare sul nostro mensile facile con gusto andiamo un po' a vedere se troviamo i famigerati strangolapreti così vediamo subito se magari mi è sfuggito qualcosa nella ricetta che non mi ha permesso di far coagulare gli strangolapreti e mo valli a cercare gli strangolapreti dove saranno dove saranno ah ecco 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 contorni dolci secondi piatti primi piatti strangolapreti preti 105 2 3 4 5 eccoli qua eccoli qua latte spinaci cipolla uova parmigiano formaggio di capra stagionato burro sale pepe salvia sale e pepe niente pane raffermo niente niente qui non ci sono amidi all'interno bene dai si vede che ci vuole probabilmente più tempo come diceva come mi hanno suggerito per appunto ottenerli detto questo mica ci fermiamo qui c'è il brownie il brownie dove sta il brownie perché abbiamo sì due primi piatti ma abbiamo anche un dolce il brownie allora il brownie alle mele che cos'è un brownie un brownie è una torta americana una torta base di cioccolato vediamo se Raffaella è andata andata via perché io vi ricordo che ho come come sempre la linea diretta con voi con voi che mi permette di vedere e leggere le vostre domande e quando non c'è Raffaella c'è anche Caterina quindi dipende un po' dipende un po' se Raffaella mi ha abbandonato devo passare su Caterina allora brownie alle mele per uno stampo quadrato quindi 20 cm perché il brownie è una torta quadrata che viene cotta e poi tagliata in ulteriori pezzettini sempre quadrati ok quindi è importante è importante ricordarsi questo abbiamo bisogno di tre mele golden e adesso vi faccio vedere anche come le come le tratteremo le nostre mele golden perché dobbiamo sbucciarle ok quindi sbucciamo le mele le tagliamo a tocchetti togliamo ovviamente il torsolo centrale le tagliamo a cubetti e poi le mettiamo a disidratare in forno per circa un'ora a 80 gradi questo significa che voi accendete il forno il forno di casa va benissimo grazie Mattia un bacione da parte di Caterina anche vedi vedi che Caterina ci saluta e ci fa gli auguri prendiamo prendiamo la mela la tagliamo a tocchetti tagliamo la parte centrale e poi la andiamo a tagliare a piccoli pezzettini ok quindi la dobbiamo disidratare perché questo adesso vi spiego anche il perché perché se noi mettessimo la mela cruda nel brownie la mela lo sapete andrebbe a lasciare fuori uscire tantissima acqua e quindi il brownie diventerebbe molto molto anacquato invece uno dei trucchi proprio per preparare questa ricetta è quello di tagliare la mela a tocchetti come quelli che sto facendo in questo momento vedete tocchetti grossolani e poi e poi dopo averla tagliata a tocchetti la mettiamo ben distesa su una teglia e l'andiamo a disidratare quindi 80 gradi volendo anche con il forno leggermente ventilato per un'ora e questo ci permetterà appunto di disidratare bene la nostra la nostra mela e perché no volendo se volete mettere un tocco in più potete anche cospargerla con un pochettino di zucchero semolato e questo dopo un'ora sarà il risultato una specie di mela candita quindi una mela semi dry che è ha perso tutta la sua acqua all'interno però ha mantenuto le sue caratteristiche organolettiche non è seccata anzi è molto morbida come vedete e ci permetterà di ottenere un brownie spettacolare ok quindi questa era la mela che volevo mostrarvi detto questo prepariamo la nostra ricetta prima di tutto diamo una bella pulita al tagliere perché qui si passa dal salato al dolce quindi bisogna assolutamente allora Silvia mi chiede non avendo il forno che gestisce gli 80 gradi in essiccatore a 70 gradi quanto tempo possiamo tenerli guarda io direi che in essiccatore a 70 gradi l'essiccatore rispetto al forno non ha il calore ha un calore ma sicuramente meno forte della resistenza del forno quindi io ti direi che un'ora e mezza a 70 gradi va più che bene assolutamente ok quindi direi che puoi tranquillamente sostituire gli 80 gradi e un'ora nel forno con i 70 gradi e un'ora e mezza nell'essiccatore oppure se siete bravi e state attenti potete mettere il forno a 100 gradi e cuocerla cuocere le mele per circa 30 minuti ok quindi riusciamo comunque ad avere un risultato molto simile Diletta mi dice va conservato in credenza a temperatura ambiente o in frigo per quanti giorni allora guarda Diletta la particolarità del brownie è che rimane molto morbido e umido però non ha una come dire non ha una vita molto lunga soprattutto perché deve rimanere molto umido in frigo sempre coperto con pellicola io ti direi al massimo un paio di giorni due o tre giorni Fulvia invece ecco perché a volte alcuni dolci che faccio con le mele mi rimane bagnato proverò a usare questo trucchetto eh sì cara cara Fulvia assolutamente sì Antonella mi chiede zucchero e cannella no volendo assolutamente sì certo che sì si possono si possono usare tutte e due ma in questo caso avremo degli altri ingredienti perché il brownie è a base di cioccolato volendo si possono preparare anche con la cannella perché no Andrea ti vedo ti vedo curioso che cosa stai cercando sul nostro sul nostro mensile allora prendiamo tutti gli ingredienti del brownie che sono delle farine quindi una parte secca e poi abbiamo il cioccolato il cioccolato da fondere ok quindi una volta tagliate le mele e disidratate Renata mi dice forno io ce l'ho ventilato allora Renata il tuo forno va benissimo se è ventilato se il forno ventilato o il forno di casa non gestisce gli 80 gradi ma si salta direttamente da 50 a 100 mettete il forno ventilato lo mettete a 100 gradi e tenete a metà del forno le mele per mezz'ora ok non devono essere perfette devono semplicemente perdere una parte di acqua questo è molto importante ok quindi è molto importante cercare di appunto arrivare più o meno allo stesso risultato nel frattempo mettiamo a sciogliere in un pentolino burro e cioccolato ok ricordatevi che nonostante sembri strano il burro si scioglie dopo il cioccolato ok il cioccolato si scioglie immediatamente mentre il burro ha bisogno di più tempo quindi le cose sono due o facciamo sciogliere prima il burro e poi uniamo il cioccolato e lo emulsioniamo oppure stiamo molto attenti alla temperatura e mettendo e togliendo il pentolino dal fuoco andiamo a preparare questa bella ganache come vedete ve lo mostro subito il cioccolato è già sciolto il burro non ancora ok questa è una cosa che bisogna sempre tenere a mente perché è molto importante perché a volte si mettono appunto a cuocere insieme e che cosa si rischia si rischia che per far fondere il burro magari al microonde mettiamo troppo tempo e a quel punto il cioccolato si sarà già seccato quindi sarà già evaporata la parte di acqua e sarà rimasto solo il grasso bene vedete poi il bello delle ganache è che arrivano si formano poco alla volta quindi basta mettere un po' sul fuoco il composto e attendere girandolo continuamente che anche il burro si sciolga non solo il cioccolato e alla fine avremo una crema fantastica questo trucchetto mi chiede Fulvia vale anche per le pere ad esempio vale anche per le pere nella misura in cui per le pere aggiungi una decina di minuti in più perché le pere sono molto più ricche di acqua rispetto alle mele quindi bisogna stare un pochettino più attenti ogni frutto ha la sua caratteristica bene ci siamo quasi con la nostra ganache e poi dopo dobbiamo farla raffreddare perché poi a un certo punto dovremo aggiungere dopo averlo intiepidito dovremo unire tutte le farine quindi il cacao la farina il lievito lo zucchero e aggiungere il il brownie ed infine le uova una alla volta quindi poco per volta non vedo l'ora di assaggiare quei cannelloni vi giuro che sono qui che me li sto sognando allora che cos'è una ganache una ganache è un composto formato da una parte liquida una parte solida a base di cioccolato una parte grassa però la ganache si può fare anche con l'acqua è un'emulsione tra il cioccolato e un altro liquido il liquido va a alterare la struttura del cioccolato questo significa che quando il cioccolato solidifica di nuovo perché il cioccolato ovviamente essendo fatto in gran parte di grasso di burro di cacao e di parte secca cioè di cacao una volta una volta raffreddato si si riassoda si rassoda di nuovo quando si rassoderà avendone cambiato la struttura quindi avendo immesso un liquido all'interno della struttura del cioccolato il cioccolato non diventerà più croccante non diventerà più duro ma rimarrà fondente quindi rimarrà con la consistenza proprio di una crema bene questa è appunto la ganache e serve per appunto per ammorbidire il cioccolato e non farlo più ritornare alla sua struttura solida allora Andre prendiamo una ciotola perfetto all'interno della quale mettiamo come vi avevo già anticipato tutte le farine quindi tutte le parti secche zucchero di canna cacao lievito poi tutte le dosi le trovate tranquillamente sul nostro mensile ma anche nella dispensa succa alla baccademi e mettiamo anche un pochettino di farina lievito farina zucchero di canna e cacao creiamo un composto vedete creiamo questa bella farina colorata dopodiché uniamo la ganache preparata con cioccolato e burro mi raccomando siate certi che la ganache sia abbastanza abbastanza fredda quindi appena si raffredda e torna a temperatura ambiente la potete utilizzare versiamo tutto il contenuto all'interno dopodiché prima con la frusta poi andremo con una spatola andiamo ad amalgamare il composto vedete in questo modo amalgamiamo bene e poi dopo aver amalgamato andiamo ad aggiungere e a unire le uova ecco fatto vedete prima diventa un impasto piuttosto grezzo però unendo le uova una ad una otterremo un composto ecco qua molto più omogeneo mettiamo la prima e la incorporiamo questo è un lavoro è una cosa che si può fare anche un'operazione che si può fare anche con la planetaria però è talmente semplice che per quanto mi riguarda è molto meglio è molto più indicato farla con la frusta bene quando vediamo che le uova incominciano a far rassodare il composto prendiamo passiamo dalla frusta alla spatola in silicone ok e piano piano andiamo ad incorporare anche le altre voilà mettiamo le altre due uova le incorporiamo lentamente delicatamente ma non solo queste uova andremo a mettere anche ovviamente le mele perché anche le mele verranno messe all'interno allora se le mele fossero se le mele fossero messe in in un ambiente molle in un ambiente morbido quindi in una in una torta morbida rischierebbero durante la cottura di finire sul fondo ok e quindi per evitare questo che cosa si fa si infarinano prima ok anche quando non so se vi è mai capitato di preparare magari un plum cake con i frutti di bosco e alla fine di trovare il plum cake completamente giallo e sul fondo tutti i frutti di bosco che sono caduti appunto sul fondo del contenitore questo perché ovviamente i frutti di bosco sono soggetti alla forza di gravità pesano e in un composto morbido la frutta finisce in fondo il trucco per non farlo per non farlo succedere è incollare i frutti di bosco all'impasto e quindi bisogna infarinarli prima di metterli all'interno invece in questo caso non ce ne sarà bisogno perché come vedrete l'impasto del brownie è molto sodo e quindi andremo semplicemente ad amalgamare le mele con il brownie e poi lo andremo a trasferire in una ciotola ovviamente imburrata molto bene ci siamo quasi prendiamo le mele le versiamo all'interno diamo una rimescolata veloce nemmeno troppo come dire nemmeno troppo precisa e poi prendiamo una teglia abbiamo una teglia sì imburrata e possibilmente anche infarinata prendiamo la nostra teglia e versiamo il brownie all'interno molto bene poi con la stessa spatola in silicone lo andiamo a stendere vedete come è plastico come è malleabile questo perché all'interno c'è il burro mescolato con le uova che lo rende appunto molto gestibile ok lo possiamo mandare dove ci pare lo possiamo tirare è molto elastico devo dire quindi è perfetto poi per essere distribuito bene su tutta la teglia a questo punto lo dobbiamo cuocere lo dobbiamo cuocere ovviamente in forno preriscaldato come sempre stiamo molto attenti alla cottura la temperatura di cottura sarà a 170 gradi quello che è veramente importante è che il brownie si asciughi nella parte esterna si asciughi anche nella parte interna perché tanto rimarrà morbido grazie al burro presente nella ganache ma all'interno non deve seccare asciugarsi è una cosa quindi cuocere è una cosa seccare e diventare friabile è un'altra quello non deve succedere di solito siccome lo abbiamo già preparato Andre quanto l'abbiamo cotto? più o meno 35 minuti ecco vedete 170 gradi l'abbiamo cotto a 35 minuti e il nostro brownie è pronto per essere cotto giustamente Andrea siccome è un ragazzo oculato ha messo 30 minuti perché è sempre meglio cuocere meno piuttosto che cuocere di più altrimenti rischiamo di rovinare i prodotti e allora è arrivato il momento di fare un po' di pulizia prendere un prendimi un piatto Andre per favore perché io il brownie ce l'ho già pronto ovviamente ed eccolo qui preparato dalle sapienti mani del nostro mitico Andrea allora adesso lo mettiamo su un tagliere perché il brownie non so se l'avete mai notato i brownie si possono anche si possono anche trovare in vendita vanno pareggiati ok quindi tolti i bordi che sono sempre molto croccanti e poi vanno tagliati a cubetti a quadretti qui l'abbiamo tolto qui l'abbiamo tolto perfetto lo tagliamo a metà sentite come è morbido ma non bellissimo poi lo tagliamo in altri due quadrati qua i quadratozzi di brownie e guardate un po' com'è al centro fantastico morbido bello umido bello bello guardate bello soffice ma compatto grazie anche al burro che abbiamo messo all'interno questo è il nostro brownie lo mettiamo qui lo mettiamo su un piatto così come lo serviamo questo brownie beh per quanto mi riguarda non c'è neanche da chiederlo un po' di gelato e un po' di panna però ognuno poi certo che questo ragazzi dopo Natale non è proprio cosa dite non è proprio la ricetta che dici sai che ti dico oggi ho mangiato tanto stamattina domani mattina mi faccio un brownie per colazione questa è proprio una torta da cena bello bellissimo e buonissimo volete renderlo ancora più buono oltre alle mele qualche scaglia di mandorla qualche noce noce macadamia oppure qualche nocciola un po' di frutta secca croccante messa o sopra o all'interno altrimenti mele e uvetta o mele e frutti di bosco comunque sia comunque vada sarà un successo io vi ringrazio per avermi seguito in questa diretta questa prima diretta del 2020 spero che per le vecchie conoscenze del 2022 sì 2020 io sono rimasto a due anni fa ah ah 2020 che bello che sei no 2022 devo dire che io non sono uno di quelli che si ricorda le date io mi ricordo il mio il mio povero nonno che ovviamente non c'è più che mi diceva nel il 30 marzo del 76 ho fatto questo e io pensavo ma come fa a ricordarselo e devo dire che è una cosa che gli invidiavo molto grazie per avermi seguito noi ci vediamo ovviamente alla prossima diretta perché ogni mese qui su Club Academy siamo in diretta ultima cosa che vi voglio ricordare è che per tutti gli appassionati di Club Academy ci sono ci sono delle nuove delle nuove accademie ad esempio la prima così una su tutte Luca Montersino con l'accademia di pasticceria nuova poi c'è l'accademia della pizza per tutti i segreti sulla pizza poi ci sarà Fabio Campoli con l'accademia sulle carni e tratterà pollo e maiale due carni molto complicate da trattare quindi bisogna ascoltare un grande maestro a proposito di grandi maestri Patrizia Forlin con il corso di base quindi tutto quello che volete sapere se non ci capite un'acca di cucina e volete imparare a cucinare poi l'accademia del pesce due perché la uno ce l'ha già la nuova la cottura sotto vuoto e a bassa temperatura che è un corso secondo me immancabile imperdibile per tutti coloro che cucinano sia a casa ma che soprattutto cucinano al ristorante la pasticceria regionale che è sempre interessante e poi tante altre novità tipo i fritti dal nord a sud dell'Italia i fritti tradizionali regionali e poi i fritti di carnevale se volete acquistare un corso su Club Academy vi consiglio di farlo entro le 23.59 del 7 di gennaio perché fino a quel momento la strena della Befana vi permetterà di acquistare i corsi sia trimestrali che semestrali che annuali a un prezzo veramente irripetibile provate per credere andate sul sito e per acquistare il corso basterà cliccare il pulsante sotto al corso quindi scegliete il vostro e ricordatevi che se scegliete un corso e lo rinnoverete in futuro anche se l'opportunità della strena della Befana ovviamente non ci sarà più per voi che l'avrete sfruttata avrete sempre quel prezzo manterrete sempre quel prezzo quindi fateci un pensiero grazie per avermi seguito noi ci vediamo alla prossima diretta qui da Club Accadio ciao volete conoscere i segreti delle ricette della tradizione romana ciao Carmine ce l'hai l'abbacchio quello che prendo sempre io che devo fare una bella ricetta sono Fabrizio Sepe con me scoprirete tutte le ricette della mia cucina romana sapori antichi e originali dei corsi dove farò antipasti primi secondi dolci e due contorni ci mettiamo cacio e pepe amatriciana carbonara scotta dito coda vaccinara maritozzi con la panna queste sono alcune delle ricette che farò nel mio corso i grandi classici della cucina romana tradizionale sono Fabio Campoli e vi presento la mia prima accademia della carne materia prima conoscenza esperienza sperimentazione sono questi gli ingredienti giusti per approcciare in modo nuovo al mondo della carne faremo assieme 40 lezioni 4 corsi scenderemo nel dettaglio dalla conoscenza della materia prima all'anatomia ai sistemi di trasmissione del calore ai metodi di cottura alle preparazioni della macelleria per poi analizzare una ad una le cotture possibili nel mondo della carne sono Fabio Campoli e vi aspetto su Club Academy la Pasqua sta arrivando è il momento giusto di venire su Club Academy per questo mio speciale corso dedicato all'agnello percorreremo assieme numerose lezioni che vi insegneranno a saperlo riconoscere a bacchio agnello castrato e quanto altro a saperlo sezionare perché non esiste soltanto la costoletta ma ogni piccolo pezzo può essere utilizzata al meglio quindi nella mia accademia delle carni vedremo assieme come saper riconoscere un carret di sossato con osso fare le costolette il coscio saperlo disossare saperlo marinare saper scegliere la cottura giusta e poi per non sprecare niente l'anteriore come farlo brasato come fare spezzatini alla cacciadora come riutilizzare i piccoli ritagli per fare ottime paste farcite questo e tanto altro ancora nella mia speciale accademia delle carni dedicata all'agnello vi aspetto su Club Academy 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 Grazie a tutti.